Lutto assorico per la tragica caduta in montagna, amadesimo in provincia di Sondrio, di un 76enne del paese. L'uomo Palmiro Copes è morto ieri precipitando durante un'escursione con alcuni amici, in gran parte provenienti come lui dall'Alto Lago. La caduta fatale al pensionato, molto noto assorico, è avvenuta alle 13 di ieri. Il 76enne è precipitato nella zona Lago Nero dello Spadolazzo, sul monte Spluga, a 2450 metri di quota. L'escursionista era con un gruppo di amici, alcuni di loro hanno assistito alla tragica caduta senza poter fare nulla per aiutare il 76enne. Copes è precipitato per un centinaio di metri dalla cresta, nel versante verso il lago. Gli amici hanno dato immediatamente l'allarme, attivando i soccorsi. La centrale operativa ha attivato le squadre del soccorso alpino, stazione di amadesimo della settima delegazione Valtellina-Valchiavenna e il soccorso alpino della Guardia di Finanza. Inviato anche l'elisoccorso di Bergamo di Areu, l'agenzia regionale Emergenza Urgenza. Una squadra di soccorritori è stata trasportata in quota. Purtroppo per il 76enne non c'è stato nulla da fare. Il corpo è stato recuperato e trasferito a amadesimo. Copes potrebbe aver perso l'equilibrio mentre camminava, ma potrebbe anche aver avuto un malore. La notizia della morte del 76enne si è subito diffusa a Sorico. Grande dolore e commozione in paese. L'intera comunità si è stretta attorno ai familiari. Grazie. 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 Grazie.